Musica Cari telespettatori benvenuti, per lo speciale di oggi ci troviamo al Pino Bar di Fano per la presentazione della lista elettorale di Cibici Fano a sostegno del candidato sindaco Luca Sarfilippi Presentata la lista di Cibici Fano, che cosa ne pensa di questi candidati? Una lista eterogenea di tante donne e uomini che hanno deciso di spendersi in prima persona per migliorare la nostra città Quando dico che sono il candidato di tutta la coalizione per Fano, lo dico perché dentro la coalizione per Fano ci sono anche delle liste civiche Cibici Fano è una lista appunto nata dal basso, dalle persone comuni che hanno deciso di impegnarsi per la nostra città E io penso che a livello locale, come sempre, la differenza la faccio nelle persone al di là del partito per la quale si candidano o della lista per la quale si candidano Io all'interno della mia coalizione ho tante donne, tanti uomini che hanno a cuore il miglioramento della nostra città di Fano Fano deve essere rilanciata e io vi chiedo di unirvi a noi perché se vogliamo cambiare la nostra città abbiamo bisogno che le persone vadano a votare l'8 e 9 giugno Come si stanno impegnando questi candidati in questa fase delle amministrative? Noi abbiamo presentato il programma di coalizione per la quale siamo tutti uniti perché bisogna raccontare alle persone, ai fanesi, che cosa si vuole realizzare Troppo spesso la politica prima promette e poi non mantiene o cambia addirittura idea dopo aver vinto le elezioni Noi abbiamo un programma molto ben definito di tanti punti programmatici che potete scaricare sul mio sito internet e che porteremo avanti dal 10 giugno in poi E' stata presentata la lista di CVC Fano, che cosa pensa di questi candidati? Sicuramente una compagine molto diversificata, radicata in tutti i quartieri della città con persone, donne e uomini che provengono da tutte le estrazioni sociali e professionali Giovani e meno giovani che si sono messi a disposizione per CVC Fano e per Luca Serfilippi con la voglia di cambiamento e con la volontà di portare un apporto positivo alla nostra coalizione Che cosa pensa che debba fare la politica oggi per avvicinarsi soprattutto a chi si è allontanato dalla politica? Quello che stanno facendo appunto i nostri candidati, che sono persone che lavorano, fanno pochi discorsi ma cercheranno appunto di risolvere i problemi più immediati e reali dei cittadini Non servono paroloni ma serve girarsi intorno e capire quali sono le reali esigenze dei cittadini a partire dalla sicurezza, la viabilità, al decoro urbano, a un'amministrazione più vicina nei confronti dei cittadini e delle imprese Sono queste le cose che servono a Fano in questo caso ma servono anche alle nostre città e per questo che un movimento civico come il nostro, Civici Marche, cerca di concretizzare nelle varie liste che sta presentando appunto in tanti comuni della nostra regione I cittadini vogliono essere ascoltati, in che modo farlo? Allora noi abbiamo aperto una sede che non sarà solo una sede elettorale ma anche una sede di ascolto Noi ci definiamo la politica che lavora perché siamo persone appunto che vengono dal mondo del lavoro e che intendono ascoltare i cittadini quindi i nostri telefoni sono sempre aperti H24 e cercano appunto di venire incontro a quelle che sono le esigenze dei cittadini quindi il grande impegno di queste persone che hanno sottratto tempo alle loro famiglie, alle loro professioni per metterlo al servizio della città e al servizio del nostro futuro sindaco che sarà Luca Serfilippi Progetti per i giovani? Dovranno esserci, ci stiamo lavorando anche perché abbiamo diversi giovani all'interno della nostra compagine probabilmente tra i più giovani di tutta la competizione elettorale, giovani molto dinamici che stanno proponendo e studiando anche delle soluzioni di inclusione per i nostri giovani perché bisogna appunto partire da questo, dare importanza ai giovani non solo con progetti fittizi o progetti mangiasoldi ma delle cose concrete, dei progetti nei quali i nostri giovani possono esprimere tutta la loro giovinezza Tra i punti salienti del programma di CVC Fano, la sicurezza, quali progetti avete? Allora il piano, il programma del candidato sindaco Luca Serfilippi mette come primo punto la sicurezza perché è un aspetto trasversale, senza di quella non si può progettare nulla e in questi anni abbiamo visto un cambiamento in Fano, è percepibile da tutti Fano è una città che anni fa c'era l'abitudine di lasciare le chiavi dietro la porta, le macchine aperte con le cose dentro poi era una città che si poteva vivere serenamente di notte, soprattutto anche per noi donne i nostri ragazzi uscivano e si ritiravano, anche ragazzi della mia età parlano che quando erano giovani anche si ritiravano alle 3, alle 4 del mattettino, non c'era nessun problema Negli ultimi anni invece emerge questo problema, furti in appartamento, furti d'auto e poi sta emergendo il problema delle baby gang La proposta del candidato sindaco Luca Serfilippi è quella di tirar fuori le risorse che abbiamo nella nostra città Sperare di poter fare affidamento soltanto sulle forze di polizia che sono molto carenti che significa fare riferimento a dei macrosistemi su cui noi in questo momento possiamo solo insistere però non è una risorsa a cui possiamo attingere in questo momento Invece nel nostro comune abbiamo una polizia locale che va sicuramente integrata ma ho visto che sono ragazzi giovani che possono uscire dagli uffici e secondo me lo fanno con grinta e determinazione per restituire la città ai fanesi e a tutti anche i turisti, a tutti quindi portarli fuori per fare un'attività che non sia soltanto preventiva aumentiamo l'illuminazione, la videosorveglianza un'attività repressiva che può essere fatta coordinata anche con le altre forze di polizia ma quello che proponiamo noi come CVC Fano è anche poi seguire i percorsi perché spostare un tipo di delinquenza, un tipo di devianza da una parte all'altra non risolviamo il problema bisogna sedersi tutti a un tavolo le figure più importanti, le figure istituzionali ma quelle che intervengono in tutti i fenomeni della devianza viene da pensare assistenti sociali, psicologi, psichiatri, coach, insegnanti, educatori per recuperare soprattutto i ragazzi perché non li dobbiamo perdere sono ragazzi italiani ma anche ragazzi che qui sono nati che vengono da altre culture e che sono nostri comunque e che hanno un grande bisogno di essere ascoltati hanno bisogno, non si parla del virgolette delinquente che è irrecuperabile che poi viene recuperato da altre istituzioni ma i nostri ragazzi non li dobbiamo perdere e il disagio non deve essere più dell'adolescente perché in realtà bisogna anche trovare degli spazi, dei luoghi dove loro si possono esprimere e questo è invece un altro punto del programma del nostro candidato sindaco Luca Serfilippi una delle candidate più giovani stiamo parlando della lista Civici Fano quali sono i tuoi progetti in caso di vittoria? Allora per me questa è un'esperienza nuova io non ero nell'ambiente politico uno dei motivi principali che mi hanno spinto a intraprendere questo percorso è stato sicuramente un motivo principalmente personale perché sono molto vicina alle tante patologie invisibili come ho detto prima come cerco di fare anche tutti i giorni parlandone con i miei amici stiamo parlando di patologie che colpiscono prevalentemente il sesso femminile che sono molto poco conosciute su cui c'è molta poca informazione e che danno dei sintomi invalidanti già nelle bambine, nelle ragazzine chiaramente la prevenzione e la sanità ha a che fare sia con la donna che con l'uomo però mi ha spinto personalmente a cercare di organizzare delle campagne informative sperando di riuscire a organizzare anche all'interno delle scuole sin dai primi anni di superiori quindi già parlando con ragazzi di 14-15 anni perché per me è l'unico modo per riuscire ad anticipare le diagnosi quindi iniziare un percorso terapeutico che possa portare in qualche modo a una risoluzione a un miglioramento dei sintomi e l'informazione più ci informiamo più siamo a conoscenza di queste patologie e più saremo forti più ci faremo ascoltare e poi chiaramente mi farebbe piacere riuscire a portare nella mia città più iniziative culturali io ho fatto una scienza umana e quindi sono innamorata dell'arte della psicologia e della letteratura ma non solo iniziative culturali ma anche iniziative di divertimento sia in estate che in inverno perché la nostra città deve essere sfruttata le potenzialità che ha Fano sono enormi devono essere sfruttate a 360 gradi lungo tutto l'arco dell'anno non solo per il divertimento di noi residenti ma anche per rendere Fano una città sempre più attrattiva anche per i ragazzi da fuori come rispondono i giovani a questi temi soprattutto alla politica? è una domanda difficile perché onestamente noi giovani non sappiamo in cosa identificarci io lo dico chiaramente è diventato veramente difficile oggi trovare un partito in cui identificarci ecco perché io ho scelto di entrare in questa lista che è una lista civica e politica dove c'è veramente una grande varietà di idee di persone con cui veramente sono persone splendide e proprio perché spero che il civismo sia una delle strade che possa portare i ragazzi a sentirsi rappresentati perché non si parla tanto di non è una questione di destra e di sinistra secondo me è una questione di chi effettivamente vediamo che riesce a risolvere concretamente problemi di persone di persone e di ascolto di persone di ascolto più che di orientamento politico perché ha deciso di candidarsi in questa lista? allora mi sono candidata in questa lista dopo una chiamata di Giacomo Rossi abbiamo fatto tante chiacchiere abbiamo parlato di tanti temi che si potevano risolvere e quindi ho deciso di candidarmi per portare il mio supporto per la città di Fano visto che sono una cittadina molto attiva allora ho detto è bene che è ora che mi metto in evidenza obiettivi principali? la sicurezza dei bambini e quindi siccome che è un tema che ho sempre trattato con il mondo visto attraverso gli occhi dei bambini e quindi lo vorrei portare proprio ai massimi livelli perché un bambino formato, educato sarà un uomo responsabile da grande lei è una commerciante e obiettivi per i commercianti? allora obiettivi per i commercianti più tutele più burocrazia veloce nelle vari permessi e più tutele comunque per noi commercianti che dobbiamo sempre affrontare tante spese quotidiane quindi un supporto valido ci vuole quale pensa che saranno i risultati di queste amministrative? allora le amministrative io penso che se la gente crede in quello che fa in quello che pensa vorrà sicuramente un cambiamento e quindi spero che no, sono molto consapevole che l'esperienza di Luca benché sia molto giovane porti tanta novità qui a Fano e ne abbiamo bisogno e ne abbiamo bisogno che cosa l'ha portata a decidere di candidarsi? allora il motivo principale è dare un contributo attivo per la città perché sono un fanese doc quindi ci tengo che la città sia amministrata nel miglior modo possibile un secondo motivo è la burocrazia perché la burocrazia è sempre crescente che sta mettendo in difficoltà il discorso delle aziende dell'attività e dell'attività e anche del turismo in generale un altro motivo è l'amicizia con Giacomo Rossi mi ha chiesto di entrare a far parte di questo gruppo di organizzare il discorso delle liste così e da buon cittadino mi sono messo in gioco sperando di riuscire ad ottenere il miglior risultato possibile si è appena conclusa la presentazione della lista elettorale di CVC Fano dal Pino Barre è tutto auguro a tutti voi un buon proseguimento di serata con i programmi di Fano TV Grazie a tutti